Rovarito è sempre stata una città molto attenta alla qualità della cultura e della produzione culturale. Audi Mozart è effettivamente inserita in questo clima della città, vuol dire semplicemente puntare le giovani generazioni, quelle che forse si sono spese anche maggiormente per arrivare ad alti livelli e promuovere, essere tranquilli di lancio per loro. Per la provincia di Trento significa innanzitutto valorizzare la presenza di Mozart qui in Trentino e a Rovarito in particolare, poi significa valorizzare tutta la vivacità musicale che c'è sul nostro territorio e aprire gli orizzonti al Trentino, quindi un festival nato qui in Trentino a Rovarito che continua a mantenere qui le sue radici ma che attira giovani da tutto il mondo e che cerca quindi di dare una dimensione internazionale a questa forte esperienza mozartiana nata e cresciuta qui in Vallagarino. Anche chi non vince riesce ad avere un'esperienza unica perché ha il confronto con i colleghi e poi mette in gioco se stesso e siccome suonare Mozart è estremamente difficile, riuscire a suonare Mozart bene significa una grande capacità non solo tecnica ma soprattutto musicale. bisogna stare al passo con i tempi ed effettivamente la comunicazione ora passa o attraverso il digitale o il web quindi è un bel modo davvero per raggiungere in tempo reale anche il livello internazionale quindi insomma direi che ci siamo.